Tornati in questo nuovissimo video di Brawl Stars Non ero online, cioè non facevo video da tantissimo Però adesso sono tornato Allora Entrate tutti nel Club VAC Se volete Perché immagano solo 6 posti Poi c'è, in questo Club c'è anche il mio cugino E vabbè Iniziamo a riavere trofei Perché ne avevo persi 70 l'altra volta Voi non lo sapete perché non registravo Vabbè Perchè avete visto tutti i video dove ballavo Mamma scelta con il mio cane E' un cucciolotto di 5 mesi Ehi Non mi uccidere Ah raga Avevo anche comprato con la schiena Adesso però Dopo la partita ve la faccio vedere Beh dai E' bellino E' anche a 100 Credo che costava 80 E adesso C'è prima che stava a 109 Quando l'ho comprata A mai più Ehi Ciao Ciao Il mio cugino non è il brun posto Però ho trovato energetic Cioè Voi l'ho trovato io Perchè sono un altro gamer Alcuni diranno che sono una nabba Ma no Non è vero Ciao Iris Ciao Iris Il mio cane l'esco Si chiama Sì Sì Chiama Sì 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 mi ero fermata non so perché almeno secondi raga finiamo il video qua per caching ciao ciao